Adi Consum, già all'inizio dell'emergenza, scrisse al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero per il Turismo presentando delle proposte chiare per esarcire tutti i consumatori danneggiati dalla cancellazione dei viaggi, delle vacanze, dei concerti, degli spettacoli e tanto altro. Allora, inascoltate, Adi Consum chiese di dare sì il voucher, ma garantendo alla sua scadenza, in caso di non utilizzo, la possibilità per il consumatore di ottenere il rimborso monetario. A spiegarlo Carlo De Masi, presidente di Adi Consum nazionale. Sulla live chat dell'associazione, accessibile dal sito internet, sono migliaia i consumatori che segnalano quotidianamente che a causa del meccanismo del voucher, così come previsto dalla legge Cura Italia, hanno perso i soldi di un viaggio che non potranno più fare perché costretti dal datore di lavoro a prendere le farie ora per l'emergenza coronavirus o che, a causa di trasferimento in altro paese, perderanno i soldi dell'abbonamento alla palestra o soldi di viaggio aerei sospesi che difficilmente potranno tornare a fare. Adi Consum denuncia che è stato negato un diritto fondamentale dei consumatori e che questo diritto deve essere immediatamente ripristinato. Pertanto, rivolge un appello ai parlamentari italiani affinché correggano questa situazione che anche l'Europa e l'antitrust hanno dichiarato illegittima.